Il processo di Kafka è un libro che ho affrontato per la prima volta attorno ai 18 anni ed è stato uno di quei libri che fortunatamente durante l'adolescenza hanno ancora il potere di spaccare il mondo in due, di cambiare completamente la tua visione del mondo e negli anni ci sono ancora rimasto estremamente affezionato a lui e all'autore ovviamente che è rimasto il mio ero letterario, quindi mi sembrava decisamente l'unica opzione possibile per me. Alla fine, nell'ultimo capitolo, dice c'erano obiezioni che erano state dimenticate, certo che c'erano, la logica è sì incrollabile ma non resiste a un uomo che vuole vivere. Inevitabilmente Franz Kafka con il processo e poi immediatamente dopo con tutti gli altri suoi iscritti eccetera, quindi è stato veramente un amore totale da questo punto di vista. Ma non ne so a sufficienza, quindi direi che per me dobbiamo tornare ancora un po' indietro nel tempo rispetto all'oggi, direi che per quanto mi riguarda sono ancora abbastanza fermo all'epoca degli anni, degli anni dieci, degli anni venti, quindi per la terza volta calca, direi. Dunque ci sono sicuramente delle affinità che sono state sviluppate nell'Ottocento, quindi con penso a tutto quel filone di scambio proficuo che ci fu all'epoca di Goethe, dei viaggi soprattutto di tedeschi che venivano in Italia, quindi una sorta di gemmazione di quella che poteva essere un'idea di Europa che univa Nord e Sud in maniera molto forte dal punto di vista culturale e letterario. Credo però che sia stata spenta nella culla questa idea di scambio e riciclo, quindi al momento affinità elettive non ne vedo, ce n'erano molte di più in passato. Grazie.